E' una palla quella secondo la quale la nostra gente non vuole più fare certi lavori. La nostra gente farebbe tutti i lavori possibili e immaginabili se regolarmente pagati. Noi non possiamo prepararci a un futuro dove i nostri figli prenderanno 4 euro all'ora rinnovabili di 3 mesi in 3 mesi. E finché ci sono fenomeni come il signore Elkan, il presidente della Fiat che dice che i giovani non vogliono andare a lavorare perché stanno bene a casa fino a che avremo questa gente che potrebbe andare a lavorare in miniera invece di andare in giro a prendere per insederla gente, noi non avremo un futuro. Quindi grazie a voi per essere qua, grazie a chi se ne frega dei ritmi di palazzo, grazie alla gente che resiste. Domani a Firenze cominceremo un nuovo futuro senza le banche, senza l'Europa dei vincoli cretini e senza l'euro che ci ha ammazzato. Qualcuno magari si fa 10 minuti di coda in macchina in piazzale Loreto, però qua la sera in piazzale Loreto sai se parti ma non sai se arrivi. Questa non è Milano, l'immigrazione perbene, rispettosa, regolare, che si integra, che paga le tasse e che è orgogliosa di essere milanese è la benvenuta. L'immigrazione violenta, balorda, arrogante, che vuole imporre il suo modo di vivere in civile non è la benvenuta. Quindi prima i nostri disoccupati e poi tutti gli altri. Viva la Lega, viva Milano e grazie per essere il palazzo a darci porto. Bravo! Bravo! Ma siamo rammaricati noi perché a Roma fanno i soliti riti di palazzo romano mentre i problemi della gente sono questi, sono il lavoro, la disoccupazione, l'immigrazione, le tasse, l'euro. Noi abbiamo provato ad andare da Napolitano con un sindaco, con un governatore per parlare di nord, di lavoro, ci hanno detto che il rito romano non lo prevede, allora se lo facciano loro, il loro stanco rito romano, noi facciamo un rito ambrosiano. Contra Renzi, cosa vuole che le dica, cosa si aspetta che le dica? Da Renzi per come sta partendo mi aspetto poco, nel senso che ha il sostegno di Bruxelles, di Berlino, delle grandi banche, della finanza e dei grandi giornali. Quindi la fregatura, l'inculata si direbbe a Oxford per il popolo, mi sa che è dietro all'angolo, però noi andremo a parlarci chiedendogli esenzione fiscale per gli alluvionati, chiedendogli che posizione ha sull'euro. Noi da Renzi ci andremo con gli amministratori locali, sia neanche lui vorrà gli amministratori locali eviteremo di andare anche da lui. Terzo premier non eletto, c'è qualcosa che non funziona in Italia? Pinochet, Fidel Castro oppure la Corea del Nord, diciamo che ce la giochiamo con loro. Però non andando al Quirinale in qualche modo voi non pensate di restare fuori dalla partita? Fuori dal palazzo, ma io preferisco stare con questa gente, oggi ci sono una cinquantina di iniziative per il lavoro e contro l'immigrazione di massa in tutto il centro nord, se non ci vogliono al Quirinale ci vuole bene questa gente. Ecco, la ragione appunto di questa manifestazione proprio in via Padova sembra un po' una provocazione perché proprio nella parte più multietnica di Milano. No, in una delle parti più incasinate di Milano dove gli italiani sono minoranza. L'immigrazione è la benvenuta se è controllata, se è rispettosa, se è certificata e se è regolamentata. Se l'immigrazione diventa invasione, diventano risse, accoltellamenti, diventa lavoro in nero, concorrenza sleale ai disoccupati italiani, questa immigrazione non ci piace. Il modello è quello della Svizzera? Il modello è quello della Svizzera, ma è quello dell'Australia, del Canada, degli Stati Uniti, dell'Austria, di tutti i paesi civili che dicono prima i nostri. Noi diciamo prima gli italiani e la battaglia della Lega dei prossimi mesi sarà fino a che non ritroveranno lavoro i disoccupati italiani, non entra neanche un solo immigrato. Non crede sia razzista come considerazione? No, è buonsenso, è legittima difesa. Diciamo che via Padova, come via Sarpi, ma come Torino, Roma o Bologna erano bellissime città, anche con immigrati per bene, fino a che gli immigrati non diventano maggioranza e dettano legge. Oggi in via Padova non possiamo fare il percorso che vogliamo noi perché c'è gente che altrimenti alzerebbe le mani e farebbe casino. Questo vuol dire che c'è qualcosa che non va. Lo svuota carceri è una porcheria, settimana prossima se riportano al semato lo svuota carceri l'opposizione che ha fatto la Lega fino a settimana scorsa sarà l'acqua di rose rispetto a quello che faremo da settimana prossima in avanti. Senta che la Correnzi parlerà anche di soglia di sbarramento? No, la legge elettorale è veramente l'ultima delle ultime, delle penultime delle mie preoccupazioni. Però la Lega ha di seguire stare fuori? No, la Lega è questa. Quindi si possono inventare le soglie di sbarramento che vogliono. Non hanno capito che fuori dal palazzo la gente è veramente tanto, tanto incazzata. Quest'ennesima bega interna al PD che ha fatto perdere altre settimane di tempo fa perdere voti a loro, fa incazzare la gente e dà più forza a noi. Barroso benedisce mentre la Merkel è lì che attende. E' ancora una volta l'Europa a dettare la politica italiana? E' da 15 anni che l'Europa fa forca e disfa in Italia. Quindi quando noi diciamo fuori dall'euro per far ripartire il lavoro è perché l'Europa delle banche non ci piace. Quello che va bene alla Merkel e al Barroso non va bene agli artigiani, i commercianti e i disoccupati italiani. Ma in un paese storicamente di emigrati come l'Italia non le pare una contraddizione dire che gli emigrati causano la perdita del lavoro? Non crede che la perdita del lavoro sia più dovuta al sistema economico in cui viviamo? Gli italiani hanno sempre esportato rispetto, tranne quelli che esportavano mafia ma non partivano da Milano. Detto questo, l'uscita dall'euro per noi è la ripartenza del lavoro. Ma in un momento di crisi le case popolari, bonus bebei, bonus affitto, bonus per pagare le bollette e gli stessi posti di lavoro vanno dati con precedenza agli italiani. Così accade in tutto il resto del mondo. In Australia danno il posto di lavoro prima agli australiani e se non servi non vai in Australia. Non vedo perché da noi debbano arrivare tutti. Ancora due incroci e ci sarà una contramanifestazione, ci sono molti centri sociali. E quindi siccome c'è gente che interpreta la politica come violenza, come sopraffazione, come pietre e bottiglie, noi che siamo gente responsabile invece di andare da una parte andremo dall'altra, quindi quelli là rimarranno a berciare da soli in mezzo alla strada. I rapporti con Forza Italia ora come sono? Forza Italia ha votato la legge Fornero, ha votato tutto quello che ci ha portato in questo disastro dell'euro, quindi ad oggi i nostri rapporti con Forza Italia sono buoni a livello locale, governiamo tanti comuni, governiamo la Lombardia e il Veneto in base a dei programmi seri, a livello nazionale non esistono rapporti con Forza Italia. Mi spiacerebbe perché continuerebbe a chiacchierare inutilmente, pagata inutilmente dagli italiani, però ecco, l'integrazione seria se vuole Renzi noi gliela spieghiamo, l'integrazione fatta sul campo dai nostri sindaci, se invece vuole l'integrazione a chiacchiere riconfermi la Chienghe.